Incomincia oggi il Festival Errante Accendiamo il Medioevo. La manifestazione si propone di valorizzare e far conoscere il patrimonio storico abruzzese, sollecitando istituzioni, organizzazioni e cittadini a salvaguardare la cultura tra i massicci del Gran Sasso e della Maiella. Abbiamo un grandissimo patrimonio medievale nella provincia di Pescara, ma così come tutto in Abruzzo, un patrimonio che non è fruibile. È fruibile in piccolissima parte. Abbiamo conventi, chiese, palazzi che sono chiusi e invece potrebbero essere da richiamo per gli stimatori, per un pubblico di grande valenza culturale. Quindi questa iniziativa, queste quattro fine settimana, iniziamo venerdì 12 a San Valentino per proseguire poi con l'altro fine settimana a Penne, poi a Cugnoli e poi a Rocca Caramanico. Non parleremo di Medioeva, ma facciamo un festival nei luoghi medioevali. Ci sarà anche un momento pubblico di confronto a Penne il 20 di luglio, in cui parleremo appunto di come rendere fruibile questo grande patrimonio culturale. E come può essere appunto valorizzato anche da parte delle istituzioni? E appunto noi metteremo intorno al tavolo la regione, la sovrintendenza di beni culturali, il FAI, i comuni, tutti coloro che possono comporre un'idea, un progetto per valorizzare, ma soprattutto per rendere fruibile. Perché quando vengono dei turisti e magari trovano il luogo di Penne chiuso piuttosto che l'eremo di Sant'Onofrio al Morrone, oppure un altro elemento, è chiaro che non ci facciamo bella figura come regione. Grazie a tutti.